Siamo all'inaugurazione della mostra in punta di corna con Federico Gemma che è l'autore di questi bellissimi acquerelli che ritraggono le vacche maremmane, i butteri e tutti gli emblemi della maremma. Federico puoi dirci, introdurci questa mostra e darci qualche informazione in più? Certo, questa seconda edizione di un punta di corna l'ho fatta a Orbetello l'anno scorso, ho avuto un grande successo e quindi ho proseguito su questo soggetto che per me è un soggetto prediletto, questo delle vacche maremmane che sono, come dicevi, un emblema del paesaggio toscano e della maremma. Mi piace incontrarle durante le mie escursioni in queste magnifiche zone e quindi ritrarle per come mi appaiono, quindi cercando di saltare il più possibile la luce e le ombre dei soggetti. E con loro questa volta ho iniziato anche a dipingere i butteri, i butteri marimmani, che sono i classici custodi delle vacche, cercando di ritrarre sia l'eleganza dei cavalli e la fierezza proprio del buttero da un punto di vista estetico. Perfetto, grazie mille e vi ricordiamo che la mostra è visitabile tutti i giorni all'Antico Frantoio, al centro visite di Alberese, dalle ore 8.30 alle 20. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!